Nella casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Oggi festa di San Giovanni Paolo II, cinque volte pellegrino a Loreto, autore di numerosi illuminanti scritti sulla Santa Casa, preghiamo Maria Regina degli Apostoli per il Papa Francesco e per tutti i pastori. Il Signore Gesù che li ha scelti li assista con il suo spirito e li conservi come guide del popolo santo di Dio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. L'angelo del Signore può accolto l'annuncio a Maria che della concepi, concepi dell'opera, dello Spirito Santo. Eccomi sono la serva del Signore, si compia in me la Tua manola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni del vero essere di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, O Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli olivi. Pater nostre qui e sinceris, santificetur nomentum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro, un quotidiano, un da nobis soli, e dimite nobis debita nostra, sicur de nos dimitimus debitoribus nostris, e de nos inducas in tentazione, se te libera nostra mano. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedita tu in mulieribus, e de benedictus fruttus, benedictus tu in mulieribus, e de benedictus fruttus, benedictus tu in Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e de benedictus fruttus, benedictus tu in Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e de benedictus fruttus, benedictus tu in Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedictus tu in mulieribus, e de benedictus fruttus, benedictus tu in Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e de benedictus fruttus, benedictus tu in Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e de benedictus fruttus, benedictus tu in Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedictus tu in mulieribus, e de benedictus fruttus, benedictus tu in Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e de benedictus fruttus, benedictus tu in Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e de benedictus fruttus, benedictus tu in Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù. Pare nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli, nei secoli, Amen. L'ho dato sempre, sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma libraci dal male, Amen. Maria Regina della pace, prega per noi, prega per noi, in concani di Goa, India, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero contempliamo Gesù che sale il calvario carico del pesante legno della croce. Padre nostro, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarsi alla tentazione, ma liberarsi dal male. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, prega per noi. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A Te ricordiamo, Esuri, figli di Eva. A Te sospiriamo, o gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo Seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, 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 Signore Madre purissima, Madre castissima, Madre semprevergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del creatore, Madre del salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, Prega per noi, Tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi, Timora consacrata a Dio, Prega per noi, Rosa mistica, Prega per noi, Torre della Santa Città di Davide, Prega per noi, Fortezza inespugnabile, Prega per noi, Santuario della Divina Presenza, Prega per noi, Arca dell'Alleanza, Prega per noi, Porta del cielo, Prega per noi, Stella del mattino, Prega per noi, Salute degli infermi, Prega per noi, Rifugio dei peccatori, Prega per noi, Conforto dei migranti, Prega per noi, Consolatrice degli afflitti, Prega per noi, Aiuto dei cristiani, Prega per noi, Regina degli angeli, Prega per noi, Regina dei patriarchi, Prega per noi, Regina dei profeti, Prega per noi, Regina degli apostoli, Prega per noi, Regina dei martiri, Prega per noi, Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo con la preghiera di Giovanni Paolo II alla Vergine Lauretana, pagina 4 del libretto. O Maria, ci rivolgiamo a Te, nella Tua santa casa di Loreto, memoria del mistero di Dio fatto uomo, nel Tuo seno purissimo, per opera dello Spirito Santo. Adoriamo il prodigioso evento, segno stupendo dell'amore di Dio per noi. Il Tuo esempio ci incoraggia ad affidarci al Tuo amato Figlio nell'edificare la nostra vita sulla parola del Vangelo. Madre di Misericordia, ottienici da Gesù il perdono e la liberazione dal male. Ottieni per l'intera umanità, ancora dominata dall'odio e dall'egoismo, la salvezza e la pace. Sulle orme degli innumerevoli pellegrini che accorrono in questa casa, veniamo a deporre nelle Tue mani il nostro impegno di vera e profonda conversione. Possa la Tua casa di Nazareth diventare per le nostre case modello di fede vissuta ed intrepida speranza, affinché nelle Chiese domestiche cresca la Santa Chiesa e dappertutto si diffonda l'amore di Cristo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le soppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste, amè. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amè. Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace, amè. Invochiamo la benedizione del Signore. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, su coloro che ci seguono da casa, attraverso i mezzi di comunicazione, particolarmente sui giovani, che Giovanni Paolo II ha tanto amato, insieme alle famiglie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. E' il tuo Signore che ci apre il cuore, Santa Maria, prega tu per noi. E' il tuo Signore nella Santa Casa, che ci protegge e consola. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Abbiamo trasmesso, dalla Santa Casa di Loreto, l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Grazie per aver guardato il tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.